Se avete bisogno di account moddati, account glitchati, aggiunta di soldi o rango all'interno del vostro account per PS4 su GTA 5 online Vi invito ragazzi a contattarmi ad uno dei contatti che troverete in descrizione Offriamo questo servizio di recovery per i vostri account Se ragazzi ne avete bisogno troverete i contatti dove potermi contattare in descrizione E consigliato a contattarmi su Telegram Io ragazzi non vi rubo altro tempo, vi lascio al video Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Krix, oggi ragazzi sono qui finalmente ritornato signori miei su GTA 5 online Benvenuti e bentornati qui nel mio canale Oggi ragazzi come avete detto dal titolo sono qui per presentarvi una versione migliorata del glitch per avere tutto gratis su GTA online Raga io ho già postato una versione di questo glitch circa ieri, vi lascio magari il link nelle schede Vi mostrerò questa versione migliorata per poter fare questo glitch senza alcun tipo di problema Quindi il glitch diciamo che in sé per sé è veramente molto molto semplice E ragazzi mi raccomando ascoltate tutto quello che andrò a dire nel video Perché è veramente molto importante Se, e dico se, oserete saltare solamente un passaggio Il glitch ragazzi non andrà a funzionare Quindi avrete perso i vostri milioni di dollari Quindi vi sto avvertendo ragazzi Seguite con attenzione il video perché dirò tutto quello che dovete sapere Ragazzi in ogni caso sto lavorando anche a Atri Afterpatch Per diciamo non avere la schermata del matchmaking Perché appunto per chi non lo sapesse La schermata del matchmaking è la schermata dove la Rockstar ha patchato questo glitch Quindi stiamo lavorando o comunque io in particolare sto lavorando Ad un modo per poter bypassare questa schermata E di conseguenza quindi tornare a fare il glitch come la versione precedente Quindi senza avere questa schermata Ma una volta che avrete comprato tutto gratis Il vostro amico accede e salva i contenuti O comunque saltate sulla vostra PS4 numero 2 E appunto salvate i contenuti Magari se riuscirò a trovare un metodo per bypassare questa schermata Ve lo porterò così appunto da farvi sapere Ragazzi prima di iniziare sapete già cosa fare Mi raccomando il vostro mitico pollicione in subbomba Che a me fa veramente tanto piacere Vi invito a seguirmi nel canale gruppo Telegram Il link sarà nella descrizione Anche per account moddati, account glicciati E aggiunta soldi nel vostro account per PS4 Inoltre seguitemi su Instagram Troverete anche qui il link in descrizione Come anche il mio nome in sovraimpressione nel video Detto questo possiamo anche iniziare subito con il video Ragazzi prima di iniziare voglio dirvi tre cose Che sono veramente molto importanti E che dovete sapere Allora la prima cosa Se non riuscite a fare questo glitch Ovviamente nessuno vi costringe a farlo In ogni caso vi consiglio di provare a fare questo glitch Con delle cose scrause Quindi comprate per la prima volta Magari degli appartamenti economici O un veicolo economico Quindi un veicolo che costi pure 50.000 dollari Così da effettivamente verificare Se il glitch vi abbia funzionato o meno Quindi fate la prova Prima con veicoli scrausi Quindi veicoli economici E poi se il glitch vi funziona Fatelo appunto con le deluxe La seconda cosa che dovete sapere Molti si sono lamentati Nel video precedente In cui avevano visto Che nel video mi scalavano i soldi Però poi non hanno fatto attenzione Alla parte successiva Ragazzi ovviamente per fare il glitch Vi servono i milioni Quindi più milioni avete E più potete comprare La roba che vi interessa Ovviamente dopo che avete finito i vostri milioni Fate la procedura per il salvataggio E poi insomma Rifate il glitch da capo Per continuare a comprare Anche perché i vostri milioni Non verranno persi Molti non hanno capito che Una volta che sarete entrati Online per comprare Tutto gratis I milioni ragazzi andranno persi I milioni appunto verranno sprecati Però una volta che avete salvato Sarete tornati nella storia E il vostro amico O comunque la vostra seconda PS4 Avrete fatto appunto l'accesso Per salvare i contenuti I milioni ragazzi torneranno Saranno quelli che avevate in partenza Quindi fate attenzione appunto nel video Perché si vede chiaramente La terza e ultima cosa che voglio dirvi È che dovrete avere sia i requisiti Quindi i milioni di dollari in banca E una seconda PS4 Nel caso vogliate fare questo glitch da soli Quindi ripeto Se volete fare questo glitch da soli Dovrete aver bisogno di due PS4 Se volete fare il glitch Ma non avete due PS4 Dovrete semplicemente ragazzi Trovare un amico Un amico importante Attenzione Perché dovrete passare E-mail e password Del vostro account Al vostro amico Ripeto solamente Nel caso non abbiate due PS4 Io nel video Andrò a spiegare con due PS4 Saprete che insomma Quando passerò O vedete la scritta PS4 2 Sarà la PS4 O comunque il vostro amico Che dovrà fare appunto il procedimento Quindi se non avete due PS4 Come me Ovviamente Dovrete fare questo glitch Con un vostro amico Vedrete tutto quanto nel video Cosa dovrà fare Sia il vostro amico Come anche la seconda PS4 Insomma Il glitch ragazzi In sé per sé È veramente molto molto semplice Quindi volevo dirvi solamente questo Nulla Per quanto riguarda i requisiti Non ci servono requisiti Se non quello di avere O due PS4 O un amico E ovviamente ragazzi I milioni di dollari in banca In ogni caso Ve li lascerò segnati Qui nel video Questi requisiti Detto questo ragazzi Passiamo subito alla spiegazione del glitch Perché è veramente molto semplice E questa è una versione migliorata La prima cosa da fare Sarà andare in GTA online In una sessione solo ad invito Con la PS4 numero 1 Quindi attenzione La prima cosa da fare Sarà entrare Voi nell'account Dovrete avviare GTA ragazzi E dovrete appunto andare In una sessione solo ad invito Quindi la PS4 numero 1 Dovrà andare online Dovrà andare in una sessione solo ad inviti E dovrà ragazzi Semplicemente salvare Quindi creare un piccolo salvataggio Qui come vedete Mi raccomando ragazzi Tenete la mira su Mira assistita parziale Perché appunto Se avrete una mira diversa Da questa qui Che vedete nel video Il glitch non vi andrà a funzionare Quindi semplicemente Una volta che sarete Nella sessione di GTA online Come ho già detto ragazzi Dovete creare un salvataggio rapido Qui come vedete Vi faccio vedere data e ora Di quando ho registrato questo glitch Effettivamente ragazzi Ieri Quindi il glitch Dovrebbe essere ancora funzionante Semplicemente ragazzi Per informazione Vi ho fatto vedere appunto La data e l'ora Tornando nel glitch Dicevo dovevate Insomma creare un salvataggio Questa ragazzi È la PS4 numero 1 Quindi per iniziare il glitch Voi dovrete andare online Non il vostro amico Ma attenzione Voi dovrete andare online Sulla prima PS4 Quindi una volta fatto ciò Per creare un salvataggio Vi consiglio di cambiare O il completo O comunque ragazzi Di comprare Una LG RH8 La mettete da qualche parte Così insomma Da far salvare la partita Come vedete insomma Potete comprare una RH8 O comunque ragazzi Salvare il completo Dal menu interazione Quindi aprite il menu interazione Andate su stile E andate appunto ragazzi A cambiare il completo Una volta cambiato il completo È molto importante Come vedete Che il vostro luogo di rientro Sia impostato ragazzi Su ultima posizione Se non sarà impostato Su ultima posizione Il glitch ragazzi Non andrà a funzionare Quindi semplicemente Una volta fatto ciò Dicevo Dovete salvare la partita E dovete aspettare ragazzi Il cerchio arancione Dei salvataggi Di Rockstar Quindi come vedete Vi metterò probabilmente Lo zoom Ecco ragazzi Dovrà comparire Questo cerchio arancione E una volta che Questo cerchio arancione Sarà comparso Dovrete aspettare Finché il cerchio A questo punto ragazzi Dovete premere il tasto pausa E uscire da GTA Online Quindi fate online E fate esci da GTA Online Una volta fatto ciò Insomma semplicemente A questo punto Aspettate di ritornare All'interno Della modalità storia Qui come sarei vedendo Insomma dal video Una volta che Effettivamente sarete Tornati del tutto Nella modalità storia A questo punto ragazzi Dovrete andare O sulla vostra Seconda PS4 O dovrà aiutarvi Il vostro amico Io ovviamente Andrò a spiegare il glitch Con due PS4 E come vedete Una volta che vi troverete All'interno della modalità storia Dovrete prendere L'altra PS4 Quindi fare l'accesso Come stare vedendo dal video E dovrete ragazzi Aspettare Nella schermata Della disconnessione Come avete visto poco fa Per tutto il tempo Quindi una volta fatto ciò Dovrete andare Sulla vostra Seconda PS4 Dovrete ragazzi Avviare GTA 5 O comunque Il vostro amico Dovrà avviare GTA 5 Dovrà ragazzi andare Nel menu di pausa Dovrà andare su online E dovrà ragazzi andare In una sessione Solo ad invito Ripeto Per fare il glitch Dovrete entrare Per prima cosa Voi su GTA Online E fare un salvataggio E impostare il luogo di rientro Una volta fatto ciò Dovrete tornare Nella storia E dovrà appunto Ragazzi entrare Il vostro amico O comunque Dovrete entrare Con la vostra Seconda PS4 Quando sarete Sulla vostra Seconda PS4 O comunque Il vostro amico Sarà all'interno Del vostro profilo Dovrà andare Semplicemente Su online Nel menu di pausa Della storia E dovrà ragazzi Andare in una sessione Solo ad invito O comunque Se state facendo il glitch Con due PS4 Sulla vostra seconda PS4 Ragazzi Andate in una nuova sessione Di GTA Online A solo invito Una volta che quindi Sarete entrati All'interno della sessione Tutto quello che dovrete fare Ragazzi Molto molto semplice Sarà salvare Il completo Quindi anche qui Aprite il menu interazione Andate su stile E andate ragazzi A cambiare il completo Ripeto Se non avete un amico E state facendo questo glitch Sulla vostra seconda PS4 In questo momento Ecco Il completo Dovrete cambiarlo voi Altrimenti Dovrà cambiarlo Il vostro amico Dovrà darvi L'ok Di quando effettivamente Il gioco avrà salvato Per far salvare il gioco Dovete aspettare Come vedete Insomma che questo cerchio Arancione Compare e scompaia Una volta fatto ciò Il vostro amico Dovrà darvi l'ok E dovrete aspettare Nella sessione di GTA Online Come vedete E a questo punto Dovrete ritornare Sulla vostra Prima PS4 Quindi in questo caso Dovrete nuovamente Accedere voi Come vedete qui Aspettate sulla schermata Della disconnessione E una volta fatto ciò Ragazzi Ritornate sulla PS4 Numero 1 Quindi dovrete Riaccedere voi A questo punto ragazzi Vi ritroverete Nella modalità storia Come prima E tutto quello che dovrete fare Sarà semplicemente Andare in una nuova sessione Di GTA Online Quindi ricordatevi Sempre di ritornare All'interno della modalità storia Eccetto per questo passaggio Che ha appena fatto Il vostro amico O comunque che avete appena fatto Sulla vostra seconda PS4 Una volta fatto ciò Insomma Il gioco vi porterà In una nuova sessione Di GTA Online E tutto quello che dovrete fare Ragazzi Da questo momento Sarà comprare Tutto quello che volete Quindi potete comprare Yacht Potete comprare Bunker Hangar Ceo Potete comprare il ceo Ragazzi Compreso di livelli Insomma del ceo E l'officina Potete comprare ragazzi L'arena Compresa di livelli E l'officina Potete comprare il bunker Compreso di alloggio Insomma ragazzi Potete comprare E modificare Oltretutto Tutto quello che volete Ovviamente Se state facendo questo glitch E volete comprarvi Una macchina E poi volete modificarla Senza spendere nessun dollaro Dovete semplicemente Ragazzi Comprare la macchina Aspettare che vi venga consegnata Una volta fatto ciò Modificarla E insomma Fal salvare La partita Semplicemente Invece io Come vedete Nel video Andrò semplicemente A comprare degli appartamenti Come vedete Quindi una volta Entrate nella sessione I vostri milioni Ragazzi Inizieranno a scalare Come avete visto Insomma Quindi da questo momento Perderete i vostri milioni Però sarete Allo stesso tempo Comprando tutto quello Che vi serve Ovviamente Se avete pochi soldi Come stare vedendo Potete comprare Gli appartamenti Più costosi O comunque In base al vostro budget E metterli ragazzi Allo slot 1 2 E 3 Altrimenti non funziona E il valore Non vi verrà assegnato Quindi una volta che Semplicemente Avrete comprato ragazzi Tutto quello che vi interessa Dovete premere il menu di pausa E aspettare che insomma Il cerchio arancione Di Rockstar Compare e scompare Insomma Per far salvare la partita Una volta che avrete comprato E il gioco avrà salvato Dovrete semplicemente ragazzi Tornare di nuovo All'interno Della modalità storia Una volta fatto ciò A questo punto Entrerà di nuovo In ballo Il nostro amico O comunque dovremo Ritornare sulla seconda PS4 E ovviamente ragazzi Dovremo aspettare Nella schermata Della disconnessione A questo punto quindi Ripeto Dovrete tornare Sulla vostra seconda PS4 O comunque il vostro amico Dovrà fare l'accesso Al vostro profilo Ragazzi dovrete andare Su GTA 5 E insomma Come state vedendo Vi ritroverete ragazzi La schermata Quella del matchmaking Quindi avviate GTA E vi ritroverete ragazzi Questa schermata Ecco questa è la schermata Del quale Rockstar Ha fatto patchare il glitch Ecco tutto quello Che dovrete fare Adesso da questa schermata Non dovrete confermarla Attenzione Ma dovrete premere ragazzi Il tasto PS Dovrete andare su Semplicemente ragazzi Un ragazzo Che stia giocando a GTA online Quindi un partecipa A sessione Qualsiasi Chiaramente Se non avete amici online Potete andare In una community A questo punto Quello che dovrete fare Non come il glitch precedente Attenzione Non sarà Che dovrete spammare Il tasto X Non dovrete appunto Premere tante volte Ma tutto quello Che dovrete fare Una volta che vi sarete trovati Il partecipa Alla sessione Come vedete Da questa clip Paralenti Semplicemente Semplicemente Premete una volta Il tasto X Sul partecipa Per partecipare Appunto alla sessione Una volta fatto ciò La playstation Vi farà ritornare Nel gioco di GTA 5 E come starei vedendo Ci sarà ancora Questa schermata Del matchmaking Ecco se fate attenzione Un secondo Dopo Che questa schermata Del matchmaking Sarà scomparsa Ci sarà una schermata Completamente nera Ecco quindi Vi rimetto il replay Confermate Il partecipa Alla sessione Ci sarà la schermata Del matchmaking E una volta fatto ciò Ci sarà una schermata Completamente nera Ecco ragazzi In questa schermata Completamente nera Dovete premere Il tasto X Per confermare La schermata Del matchmaking Mi raccomando È molto importante Quindi prima partecipate Il gioco vi fa tornare Nella sessione Ci sarà la schermata Del matchmaking Ci sarà una schermata Tutta nera Dopo la schermata Del matchmaking Ed in questa schermata Tutta nera Dovete premere Il tasto X Per appunto Confermare la schermata Del matchmaking Ok mi raccomando Questo passaggio ragazzi È molto importante Ve lo faccio rivedere Quindi vi prendete Il partecipa Sessione del vostro amico Schiacciate una volta X Su partecipa Alla sessione Del vostro amico Una volta fatto ciò La playstation Vi farà ritornare Nel gioco Ci sarà la schermata Del matchmaking E un secondo dopo Comparirà Questa schermata Nera In questa schermata Completamente nera Ripeto Dovete premere Il tasto X Per confermare Il glitch ragazzi Funziona solamente Per PS4 Ecco perché dico Il tasto X Quindi a questo punto Ovviamente qui ragazzi Vi ho messo la clip A rallenty Voi dovrete essere Molto 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 veloci A vedere quando Il vostro schermo Diventa completamente nero A questo punto Confermate la schermata Del matchmaking Se avete fatto il glitch Correttamente In basso a destra Come vedete Vi dirà Uscita dalla sessione E tutto quello che dovrete fare Ragazzi Sala primer Doppio tasto PS Come avete visto Insomma E continuare E continuare A tentare Di partecipare Alla sessione Del vostro amico Quindi dopo aver fatto Questo passaggio Come vedete Doppio tasto PS X partecipa alla sessione Doppio tasto PS X partecipa alla sessione Quante più volte Possibili Dovrete appunto Cercare di entrare In tutti i modi Nella sessione Del vostro amico Mi raccomando ragazzi Questo spam Del doppio tasto PS E X Su partecipa alla sessione È importantissimo Quindi più volte lo fate Più ci sarà Possibilità Di azzecare il glitch E che quindi il gioco Non vi faccia tornare Del tutto nella modalità storia E di conseguenza ragazzi I vostri milioni Non verranno persi Quindi una volta fatto ciò Se state eseguendo il glitch Correttamente Il gioco vi farà tornare All'interno della modalità storia E durante Un qualsiasi filmato Del personaggio Il gioco ci chiederà Se vogliamo entrare In una nuova sessione Di GTA Online Quindi se ci comparirà La schermata Del vuoi unirti A una diversa sessione Di GTA Online Durante un filmato Di un qualsiasi personaggio Della storia Allora ragazzi Il glitch sta funzionando A questo punto semplicemente Come avete visto Confermate il più velocemente possibile La schermata E aspettate Di rientrare Su GTA Online Una volta ragazzi Che sarete rientrati Su GTA Online Come vedete In alto a destra Ho ancora I miei 127 milioni Con il quale Ho iniziato questo glitch Quindi vuol dire Che fino a questo momento Io ho fatto il glitch Alla perfezione Quindi come vedete I miei soldi Non saranno persi E ora tutto quello Che ci basterà fare Qui come vedete Insomma ragazzi Questo è lo step Che dovrà fare O il vostro amico Alla fine O comunque la vostra Seconda PS4 Quindi una volta fatto ciò Il nostro amico entra O comunque Entriamo con la nostra Seconda PS4 Dopo aver fatto Questa procedura Del matchmaking E estraiamo un'arma Se non abbiamo Munizioni da comprare E spariamo Semplicemente qualche colpo Per comprare le munizioni Quindi appunto A questo punto Dovrete semplicemente Aprire il menu interazione E comprare Ragazzi Delle munizioni Una volta comprate Le munizioni Andate su stile E andate a salvare Il completo Mi raccomando ragazzi Le munizioni Compratele Compratele sempre E comunque Perché se non comprate Le munizioni Il glitch ragazzi Vi fallisce Quindi perderete Tutti i vostri milioni Ve lo posso confermare Perché alcune volte Non ho appunto Comprato le munizioni E ho perso i milioni Quindi arrivati a questo passaggio Ragazzi Ricordatevi sempre Di comprare le munizioni E di salvare La partita Salvare la partita Semplicemente Cambiando o un accessorio Al vostro personaggio O un completo Appunto al vostro personaggio A questo punto Aspettate semplicemente Che il gioco vi darà Il cerchio arancione Del salvataggio di Rockstar Dovrete aspettare Che questo cerchio arancione Scompaia E una volta fatto ciò Ragazzi Semplicemente Dovrete premere Il tasto pausa Andare su online E dovrete ragazzi Uscire da GTA online Quest'ultimo step Ovviamente dovete farlo O voi O il vostro amico Se non avete appunto Due PS4 Una volta che sarete Ritornati nella storia Come vedete Ci sarà la schermata Della disconnessione Perché dovrete rientrare Voi con il vostro account Quindi Ritornate sulla PS4 Numero 1 E fate il login Al vostro account Una volta fatto il login Vi ritroverete All'interno Della modalità storia E tutto quello Che vi basterà fare Adesso sarà Semplicemente Tornare in una nuova sessione Di GTA online Rientrati All'interno della sessione Se abbiamo cambiato Il completo Troveremo appunto ragazzi Il nostro completo Salvato E i nostri soldi Come state vedendo Insomma Salvati Oppure se abbiamo cambiato Ragazzi Un accessorio Al nostro personaggio Ci ritroveremo Insomma Il nostro personaggio Con l'accessorio cambiato Il che vuol dire Che avremo a questo punto Salvato perfettamente I nostri soldi E allo stesso tempo Avremo comprato Tutto gratis Quindi tutto quello Che ci serve Gratis Qui se vedete Nella clip Che ho 126 milioni di dollari È perché semplicemente La clip Della prima PS4 L'ho registrata Dopo che ho venduto Gli appartamenti Che abbiamo comprato Precedentemente E questo ragazzi È il glitch Potenzialmente Una volta che sarete Rientrati a questo punto A GTA online Se avete comprato Degli appartamenti Rivendeteli Per fare soldi O comunque Se avete comprato Il veicolo Che vi interessava Che sia per prova O che sia una deluxe Rivendetela Per fare soldi Ovviamente Se poi volete Completarvi l'account Continuate a fare Questo glitch Più e più volte Insomma Qui sto comprando Insomma ragazzi Le proprietà E come vedete Andrò a 127 milioni Quindi appunto La clip Della prima PS4 E il che Come vedete Insomma Non ho perso Alcun centesimo E grazie appunto Ragazzi a questo glitch Possiamo comprare Tutto quello Che vogliamo Che siano yacht Che siano veicoli Che siano appartamenti Che siano proprietà Che ci servono Che sia magari ragazzi Anche il garage Della cocaina Dell'MC Ecco possiamo Comprare ragazzi Tutto quello Che vogliamo Dalla A alla Z Questo è il glitch Come vedete È veramente Molto molto semplice Magari dalla spiegazione Non potrà sembrare Ma fidatevi che Una volta che Inizierete a mettere mano A questo glitch E facendo la procedura Più e più volte Il glitch ragazzi Vi risulterà Molto molto semplice Vi do la mia parola Perché anch'io Vedendo il video su YouTube Ho detto Ma che cazzo è sta cosa Poi lo sono andato a fare E il glitch Veramente ragazzi Lo può fare Anche un bambino Di tre anni E non sto scherzando Ovviamente Se non avete due PS4 L'unica soluzione È quella di passare E-mail e password Del vostro profilo Ad un vostro amico fidato Quindi se avete Un fratello Un padre Un cugino Meglio ancora Magari ragazzi Lo fate con vostro padre Se il vostro padre gioca GTA 5 Così appunto Da fare questo glitch In compagnia O comunque ripeto Se avete due PS4 Questo glitch Lo potete fare da soli Ovviamente Non consiglio E non obbligo nessuno A comprare due PS4 Per fare questo glitch Anche perché giovedì Verrà pacciato Quindi sarebbero soldi spregati Però In ogni caso Ripeto Se non avete due PS4 Potete appunto ragazzi Fare il glitch Con un vostro amico Ovviamente Il vostro amico dovrà essere fidato Del quale ragazzi Vi fidate Perché io ovviamente Non mi assumo Nessuna responsabilità Nel caso il vostro account Venga rubato Ok? Bene Patti chiari E amicizia lunga Detto questo ragazzi Che dire Niente Anche questo video È giunto al termine Ovviamente ragazzi Nei prossimi giorni Arriveranno degli altri Afterpatch Se riesco a capire Come poter insomma Bypassare Questa schermata di merda Del matchmaking Se riesco appunto ragazzi A capire Vi porterò altri Afterpatch Nulla Detto questo Vi invito a seguirmi Nel canale Gruppo Telegram Il link sarà nella descrizione Anche per account montati Account glitchati E aggiunta soldi Nel vostro account Vi invito a lasciare Un mi piace Di iscrivervi al canale Attivare la campanellina Se siete nuovi E non siete insomma Mai iscritti al mio canale Nulla Facebook Instagram E Twitter Anche questi ragazzi Nella descrizione Quindi mi raccomando Cercate tutti i link Nella descrizione Ci saranno tutto Il necessario Se non riuscite a fare Questo glitch Ovviamente contattatemi In ogni caso Se non vi va Di passare i vostri dati Ad un vostro amico Semplicemente ragazzi Mi contattate su Telegram E io per circa 60 euro Vi faccio questo glitch Riempiendovi tutto l'account Quindi vi metto Tutte deluxo Tutte oppressor Tutte bombusca E' un'offerta ragazzi Che conviene Anche perché Io so come non sbagliare Questo glitch Di conseguenza Circa un'oretta Due orette Per ogni account ragazzi E il vostro account Sarà pronto Ovviamente Dovete lasciare E mail e password A me Per poter lavorare Insomma nell'account Se siete interessati Link del mio canale Gruppo Telegram Nella descrizione Questa è tutto Vi saluto Vi ringrazio Noi ci becchiamo Prossimo video Prossima live O un prossimo glitch Bella Ciao